Emanuele, oggi è lunedì, devi andare a fare la spesa? Emanuele, oggi è lunedì. 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 speciali a silvia e massimo che mi hanno creato il logo è veramente stupendo guardatelo lo metto qui grazie grazie veramente infinite del regalo un altro grazie speciale va a simone che mi ha scritto l'arrangiamento del brano che avete sentito grazie grazie mille anche a te simo e vi ricordo di seguirmi su instagram facebook e youtube the trumpet mi raccomando al prossimo video